Ciccio Savoia, questa nuova macchina, una gara di casa che ti ha premiato nuovamente. La classe era bella tosta, in effetti sono riuscito a vincere gara 2 per soli due centesimi. Lamento problemi di cambio da quando sono andato venerdì a fare due giri in pista, però purtroppo io preferivo la leva, ma questo cambio mi dava noia. Alle volte volevo scalare una marcia e me ne scalava due, alle volte non scalava proprio. Stamattina sono rimasto in folle. Insomma, abbiamo cercato di limitare i danni. Mi dispiace perché avrei potuto fare un tempo migliore, però va bene così. L'importante è aver segnato il nuovo record e aver portato la vittoria a casa, sui tornanti di casa. Anche perché era una categoria con avversari di giusto rispetto. Guarda, io devo fare i complimenti veramente ai miei avversari perché sono andati fortissimi, non me l'aspettavo. Sono sincero, credevo di dovermi impegnare un po' meno per stargli davanti, ma invece mi hanno messo a dura prova. Ho dovuto accelerare seriamente. Grazie.